Questa sera nella struttura alberghiera del vicepresidente Russi si è tenuto l'incontro tra i numeri uno i portieri Umbri ma c'erano anche glorie del passato come Mazzantini, Tardioli, Lupatelli. Tu Nicola eri lì. Sì, è stata davvero una bella serata. Fra l'altro c'erano oltre 100 portieri Umbri e non solo. Una serata organizzata da Lapport, soprattutto da Fabrizio Brunori e sono venuti davvero tantissimi portieri un po' del calcio dilettantistico e non solo. È arrivato a un certo punto anche Andrea Mazzantini che a Perugia tutti ricordano, è stato qua dal 99 al 2002. Fra l'altro proprio a detta dello stesso Mazzantini era più di un anno che non capitava qui a Perugia. Ha incontrato chiaramente Michele Tardioli che questo anno è fermo, lo scorso anno ha vinto il campionato col Cesena. Tardioli stesso ha detto che a giugno inizierà il corso d'allenatore e dunque intraprenderà anche lui questa carriera d'allenatore. Tardioli che ha in ottimi rapporti tra l'altro con Pierpaolo Bisoli. E poi c'era Lupatelli che quest'anno è a Bologna, si è parlato un po'. Lupatelli ha raccontato anche delle cose di Viviano, ha parlato ad esempio di Paponi, dicendo che ha grandissime qualità. Paponi che lo scorso anno era qui a Perugia ha segnato due gol a Bologna. Mazzantini ha raccontato diversi episodi anche insieme a Tardioli legati anche alla figura di Renzo Luchini che tuttora nel Perugia è rientrato quest'anno. Insomma è stata una bella serata, davvero tanti portieri, un consueto appuntamento che si è rinnovato. La scena dei numeri uno diventa ogni anno, continua a crescere e hanno fatto i complimenti soprattutto a Fabrizio Brunori che è colui che l'ha organizzata. Immagino che tu racconti la serata nel giornale dell'Umbra di dopodomani, di mercoledì evidentemente. Allora qualche messaggio?